Ciao ragazzi, eccoci con una nuova puntata della Makeup Collection Oggi sarà un pochino più cortina delle altre perché vi parlerò dei primer occhi E io ne ho solamente 4, quindi vi parlerò di questi che essendo troppo pochini verrà un pochino più breve del video Inizio subito parlandovi in assoluto del mio primer preferito Che ormai conoscete tutti Che è la Love Stage di Essence È un'ottima base per il trucco Per chi non lo conoscesse, dubito Questo è il colore, è un bel beige pieno che riesce a coprire perfettamente ogni tipo di scromia A uniformare perfettamente la palpebra So che non è molto adatto a chi ha una palpebra oleosa La mia sinceramente è normalissima E vi dico che con questo primer io metto gli ombretti anche alle 8 di mattina e alle 11 di sera Ce l'ho ancora intatti Soprattutto noto che ha una buonissima durata con i minerali di neve Che davvero metto la mattina e la sera sono ancora perfetti Ve lo straconsiglio Il prezzo è intorno ai 3-4 euro E il mio voto per lui è 9 Non mi voglio sbilanciare a dare 10 Visto che comunque Non so, magari Darò 10 a un primer che comprerò In là Quindi non voglio comunque Sbilanciarmi Però in assoluto per adesso è il mio primer preferito E dietro di lui al secondo posto Per me c'è questo primer della MOA Il Pro Base Eye Primer Allora, in confronto a quello di Essence Ah, intanto è fatto uguale con lo stesso applicatore Diciamo a luci da labbra È più chiaro e molto più liquidino E non corposo come l'altro Come vedete è molto molto più chiaro E io che non ho discromie particolari sugli occhi Diciamo che poco mi interessa E quindi per me va benissimo Però effettivamente Se avete da coprire qualche discromia o qualche cosa Come vedete è molto molto meglio questo qui di Essence E mi dà un pochino fastidio il fatto che sia liquidino Perché va sfumato molto bene Però a parte questo Ha comunque un'ottima ottima durata E anche questo mi fa durare gli ombretti intorno alle 8-10 ore E quindi mi piace davvero tanto Costa intorno ai 2-3 euro Quindi il prezzo è convenientissimo E ovviamente io qui non parlo di inci Perché di ognuno penso che sia pessimo Anzi se avete da consigliarmi un buon primer bio Ve ne sarei davvero gradi Ma anche questo è un primer davvero davvero valido E gli do 8 Altro primer E' questo della Herf Il Mineral I Show Primer E se non sbaglio ci sono di 2 tipi Questo qui normale e quello di poco la base perlata Io ho questo normale E' già il secondo che ricompro Non so perché mi finisce prestissimo Nonostante non lo usi sempre Il colore è molto più simile a quello della Mua Come vedete Però la consistenza è più corposetta E più simile a quella di Essence E anche questo è un buon primer Non sia per il fatto che mi finisce subito E poi che comunque la durata è leggermente minore rispetto La durata degli ombretti ovviamente E' minore rispetto agli altri due Ma cosa di 1-2 ore Cioè comunque per quanto viene Viene sui 4 euro E' un ottimo primer Però se dovessi scegliere Preferirei comunque gli altri due E a questo però comunque gli do 7 Infine, ultimo primer Non sono abituata a fare video così corti E' questo qua della Essence Il Colors Art Che in teoria è nato come primer per i pigmenti E' praticamente pieno il mio tubetto Perché non riesco ad usarlo Perché non mi piace per nulla Perché non lo conoscesse Ha questa consistenza bianca Che una volta sfumato Diventa abbastanza trasparentina Ma non lo uso mai Perché mi lascia la palpebra unticcia E appiccicaticcia Lo odio Anche se effettivamente poi I pigmenti vanno anche a Diciamo attaccarsi meglio Anche se l'effetto che fa non mi piace Perché non Non so come spiegarvi Come se non me lo rendesse Il trucco naturale Non so, non so proprio spiegarvi Sta di fatto che probabilmente Un giorno di questi lo cestinerò Perché non so che farci Anzi se avete idea ditemelo Visto che non lo riesco Ad utilizzare come primer Non so se è un mio problema O comunque Sa di fatto che il mio voto per lui E' 4 Niente ragazzi E' già finito il video Stavolta sono stata breve Perché comunque di primer O solo questi Fatemi sapere Qual è il vostro primer preferito E niente Ci vediamo al prossimo video Ciao